Un operaio edile colpito da sei proiettili, un missionario il cui corpo non fu mai trovato, un ex ufficiale di polizia colpito sette volte, furono solo alcune delle vittime di una criminale sui generis, una serial killer donna. Una predatrice a caccia di uomini. Tutti gli indizi portavano verso una prostituta. La polizia arrestò questa donna, Eileen Warnos. Controllava gli uomini per mezzo del sesso, quindi metteva in pratica il suo obiettivo, uccidere. Affermò di aver agito per legittima difesa. Nella sua mente era vittima di stupri e doveva difendersi dalla violenza. Entreremo nella mente della prima donna serial killer d'America. Che cosa la spingeva a uccidere? Sono piena di amore, di compassione, di gentilezza. Sono piena di Dio, di Gesù. Sono una donna affettuosa. Sono una donna capace di abbracciare una persona, di nutrire una profonda amicizia. Non pugnalerei mai alle spalle qualcuno. Sono una persona della quale potreste fidarvi. So che può sembrarvi strano, visto che ho ucciso delle persone. Sei stata definita la prima serial killer donna. Cosa ne pensi? Che sono pazzi, che vogliono trascinare la mia vita nel fango e trasformarmi in una serial killer. Sostenne di essere sempre stata una vittima. Tutto aveva avuto inizio nella sua infanzia e anche dopo, quando era diventata una prostituta che batteva le strade e le aree di sosta dei camion nella Florida centrale, vendendo il proprio corpo. Ho avuto una vita difficile e poi sono finita sulla strada. Sono stata violentata continuamente, continuamente per tutta la vita. Disse che fu uno stupro sadico, a innescare la catena di eventi che la portarono a uccidere ancora e ancora. Questa è la storia di Eileen Wuornos. Era una predatrice che andava a caccia sulle strade della Florida centrale alla ricerca di vittime da derubare e uccidere? O una vittima che sette uomini tentarono di violentare, costringendola a sparare per autodifesa? Eileen Wuornos raccontò di aver incontrato Richard Mallory la sera del primo dicembre del 1989. L'uomo le diede un passaggio mentre faceva l'autostop sull'interstatale 4. Bevero qualcosa insieme mentre si dirigevano a est, verso Daytona. Lei gli disse di essere una prostituta e i due si accordarono per un rapporto sessuale. Verso mezzanotte raggiunsero Daytona, uscirono dall'autostrada per imboccare una via secondaria, dove rimasero a bere e a chiacchierare fino alle 5 del mattino, quando Mallory decise che era giunto il momento di andare al dunque. Secondo Eileen, Mallory non voleva pagarla e probabilmente avrebbe abusato di lei per poi rapinarla. Così prese la pistola. Ci fu una colluttazione e alla fine Richard Mallory era morto, colpito da quattro pallottole. La polizia ritrovò il veicolo di Mallory abbandonato. C'era del sangue sul sedile del guidatore. Accanto alla macchina c'erano il portafogli della vittima, una bottiglia di vodka e due bicchieri. Due settimane dopo l'investigatore Bob Kelly ricevette una chiamata a proposito di un cadavere ritrovato nei boschi. Due uomini che stavano cercando metallo di scarto si erano imbattuti nel corpo. Trovammo il cadavere coperto con del cartone sul quale erano stati messi dei tappetini. Il corpo era in stato di decomposizione. Si sapeva poco sul 51enne Richard Mallory. La polizia apprese che era proprietario di un negozio di riparazioni elettroniche, che era divorziato e noto come forte bevitore e assiduo frequentatore di topless bar e prostitute. C'erano altri segreti inconfessabili nella vita di Richard Mallory, ma sarebbero emersi solo molto tempo dopo. Nel corso dell'anno successivo morirono altri sei uomini. David Spears, un operaio edile, fu colpito da sei proiettili. Charles Cascaden, scomparso mentre si dirigeva verso Tampa, fu ucciso da nove pallottole. Il corpo di Peter Sims, un missionario, non fu mai ritrovato. Troy Barres, un camionista, fu ucciso da due proiettili. Charles Humphries, un ex ufficiale di polizia, che aveva celebrato il suo 35esimo anniversario di matrimonio la sera prima, fu ucciso con sette colpi di pistola. Walter Antonio, che si dirigeva verso l'Alabama, fu colpito quattro volte. Erano tutti uomini di mezza età, bianchi. Tutti erano in viaggio da soli sulle autostrade della Florida centrale. Tutti furono uccisi con una rivoltella calibro 22. Accanto ad alcuni di loro furono rinvenuti dei preservativi usati. Alcuni corpi furono trovati nudi. Dunque era piuttosto chiaro che l'assassina fosse una prostituta o un'autostoppista, qualcuna che in qualche modo convinceva le vittime a farla salire a bordo. Nel fine settimana del 4 luglio, la polizia chiamata a intervenire sul luogo di un incidente ritrovò la macchina di un missionario scomparso, Peter Sims, e ottenne la descrizione di due donne che si erano allontanate dalla scena del delitto. Arrivò una chiamata da Daytona e qualcuno ci disse che una ragazza di nome Cammy Green somigliava molto alla donna descritta sul giornale. Inserimmo il nome nel nostro motore di ricerca e scoprimmo che Cammy Green aveva portato diversi oggetti nei banchi dei pegni della zona, anelli, rubber detectors, macchine fotografiche e altro, tutti oggetti che risultavano essere stati rubati alle vittime. Gli investigatori vennero anche a sapere che una cassetta di sicurezza Daytona Beach era stata affittata a nome di Cammy Green. In quella cassetta furono ritrovati altri oggetti appartenuti alle sette vittime. Quando la polizia eseguì un controllo sull'impronta del pollice lasciata dalla donna al banco dei pegni, scoprì la vera identità di una delle due donne sospettate. Si chiamava Eileen Carol Warnos, alias Cammy Marsh Green, alias Lori Grody, Susan Blachowek. Una soffiata portò la polizia al Fairview Motel. Eileen Warnos era stata lì con Tyra Moore, l'altra donna dell'identikit, che era la sua amante da quattro anni e mezzo. Poche settimane prima le due donne avevano lasciato il motel. Tyra Moore aveva interrotto la sua relazione ed era partita. Ma Eileen Warnos, rimasta senza casa e sola, non era andata troppo lontano. Gli investigatori la trovarono a poca distanza dal motel, in un bar per motociclisti chiamato The Last Resort. Faceva un gran chiasso. Normalmente una persona che ha ucciso qualcuno tende a non farsi notare, a non dare nell'occhio, ma a lei non se ne preoccupava. Passava le sue giornate a bere e a giocare a biliardo e di notte dormiva in un'automobile parcheggiata davanti al bar. Per arrestarla fu architettata una trappola per attirarla fuori dal bar, con la promessa di una stanza di motel. All'esterno era buio. Appena uscì dal locale, la polizia la circondò e venne arrestata. 13 mesi dopo l'inizio degli omicidi, gli investigatori avevano finalmente messo le mani sull'indiziata principale. Per inchiodare Aileen Wuornos, gli investigatori decisero di usare la sua ex amante come esca per portare l'assassina a confessare i suoi crimini. Tyra Moore fu riportata in Florida e dallo stesso motel nel quale le due donne avevano vissuto insieme chiamò Aileen in carcere. Nel corso della telefonata registrata dalla polizia, Tyra disse ad Aileen di essere sospettata degli omicidi e le chiese di confessare per scagionarla. Per favore, mi vogliono incastrare, lo so per certo. No, non ti vogliono inchiudare. Sì, invece, altrimenti perché farebbero tutte quelle domande? Amore, ascolta, 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 fai quello che devi fare, capito? Puoi scommetterci, non andrò in carcere per qualcosa che hai fatto tu, non sarebbe giusto. Non permetterò che tu finisca in carcere. Io, tu, ascolta, tu non hai fatto niente, io, io glielo farò sapere, capito? Ascolta, Tyra, cosa? Non permetterò che tu finisca in carcere, amore. Ascolta, se dovrò confessare, lo farò. Il piano funzionò. Sono qui per confessare di aver ucciso. Ma chi è veramente Aileen Warners e cosa la spinse a uccidere? Nessuno pensa a com'è stata la mia vita. Nessuno considera com'era la vita che ho vissuto fino a oggi. Le vittime dei serial killer di Norm sono donne e lavorano come prostitute. Quando una prostituta viene assassinata, raramente qualcuno se ne accorge e difficilmente qualcuno la piange. Ma Aileen Warners stava per cambiare tutto questo. Sette uomini erano stati ritrovati senza vita lungo le strade della Florida centrale nell'arco di un anno e Aileen Warners, una prostituta, aveva ammesso di averli uccisi. Serial killer donne sono molto, molto rare. Non ricordo neanche un caso in cui una donna ha ucciso più persone con una pistola. In realtà l'uso di un'arma da fuoco è raro anche tra i serial killer maschi. Le donne di solito usano mezzi più subdoli, avvelenano le loro vittime e uccidono fidanzati o amanti. Nei casi delle infermiere killer, le vittime sono uccise con un overdose di qualche farmaco. Si tratta in genere di pazienti o anziani che le infermiere non sopportano più. Le armi da fuoco sono più strumenti usati dagli uomini. John Douglas è un ex profiler dell'FBI che da 25 anni studia il comportamento dei criminali violenti. La domanda che di solito mi viene rivolta è serial killer si nasce o si diventa? Non ritengo possibile che qualcuno nasca per essere un serial killer. Può esserci una predisposizione, qualche scompenso della personalità, ma tutti i serial killer che ho studiato, e anche gli assassini comuni, hanno sempre un passato difficile. Eileen Wuornos non faceva eccezione. La sua storia aveva avuto inizio a Troy nel Michigan. Era cresciuta al numero 1429 di Kavagner Street, la più giovane di quattro figli. Almeno così pensava fino a quando, all'età di sette anni, scoprì il segreto della famiglia. Quelli che chiamava papà e mamma erano, in realtà, i suoi nonni. Lei e suo fratello erano stati abbandonati dalla loro vera madre. Più tardi aveva appreso che il suo padre biologico si era suicidato in carcere, dove stava scontando l'ergastolo per il rapimento e lo stupro di una bambina di sette anni. All'età di 14 anni, anche Eileen Wuornos fu violentata e rimase incinta. I nonni la misero in una casa famiglia per ragazze e madri. Nel 1971, all'età di 15 anni, diede alla luce un bambino che fu subito adottato da una coppia. Pochi mesi dopo, sua nonna morì e suo nonno, un alcolizzato, la cacciò di casa. Me ne andai e mi disse, e non provare a tornare mai più. Bene, mi dissi. A mai più rivederci. Non sapendo dove andare, cominciò a vivere nei boschi. E fu così che Eileen Wuornos diventò una prostituta. Batteva le autostrade e le vie secondarie, vendendo il proprio corpo a sconosciuti. Ma non sempre si trattava di rapporti sessuali con sensuali. Il suo avvocato difensore, Trisha Jenkins, rivela che all'inizio della sua carriera, Eileen fu vittima di uno stupro di gruppo. Fu picchiata e violentata. Ci ha descritto come coperta di sporcizia. Fu gettata come un rifiuto sul ciglio della strada. Ho sempre saputo che sarebbe successo qualcosa ad Eileen, o sarebbe successo qualcosa a lei, o avrebbe fatto del male a qualcuno. Era naturale, data la vita che conduceva. Nessuno le dava pace. Don Bodkins e Eileen Wuornos erano diventate amiche negli anni 70, dopo che entrambe avevano abbandonato la scuola. Andavano in giro per i boschi, ubriacandosi. Tutti i miei amici mi dicevano, è una prostituta. Io pensavo, ma quale prostituta? Però mi chiedevo sempre da dove prendesse tutti quei soldi. Era lei a mantenere suo fratello e sua sorella che vivevano da me. Anche Eileen stava da me, ma non spesso quanto loro due. Viveva nei boschi, dormiva all'aperto con un clima gelido. I vicini sapevano che non aveva una casa e correva la voce che fosse una prostituta. Eppure, nessuno aveva mai pensato di aiutare Eileen Wuornos. Quando bussava alla loro porta per chiedere aiuto, non la lasciavano neanche entrare. Non volevano che frequentasse i loro figli. Nessuno si era mai dato la briga di conoscerla meglio, di scoprire che era una ragazza molto dolce. La giudicavano per come si vestiva, per il suo atteggiamento. Si basavano sui pettegolezzi, non erano disposti a cambiare idea. Erano prevenuti nei suoi confronti. Senza casa, al freddo, Eileen Wuornos diede inizio a un lungo viaggio che alla fine la portò in Florida. Avevo 15 anni, quasi 16. Era il 2 gennaio, quando finì sulla strada. E da allora non l'ho mai lasciata per tutta la vita, ad eccezione di Daytona. Lee si sposò con un uomo che aveva 50 anni più di lei, ma durò poco. Quindi, nel 1982, fu condannata per una rapina a mano armata in un negozio. Infine, tornò a fare ciò che sapeva fare meglio. Eileen Wuornos ricominciò a vivere come un tempo e tornò sulla strada. Ogni giorno sceglievo un tratto di strada. Ad esempio, da Daytona a Tampa, o da Daytona a Lake City, o magari da Daytona a Port Myers, decidevo dove fermarmi a dormire e passavo dalle 8 alle 12 ore sulla strada, come minimo. Aveva dai 25 ai 30 clienti al giorno e ogni volta che saliva a bordo di un'automobile racconta che non sapeva mai cosa doveva aspettarsi. Ho usato spray, quelli urticanti, ho usato un coltello, ho usato i pugni e ho usato anche la psicologia su quegli idioti, facendo la pazza. Ho usato ogni maledetto trucco per evitare di farmi ammazzare, per evitare uno stupro. Ne avevo subiti tanti. Per sostenere lo stress, Aileen Wuornos si diede all'alcol. Bevevo per calmarmi, per non pensare troppo a quello che facevo. Bevevo solo birra, niente whisky, non volevo essere sbrunza, perché con la vita che facevo, beh, non potevo permettermi di essere poco lucida, dovevo essere sempre allerta, ma psicologicamente era... tutto davvero molto pesante, uno stress terrificante. A casa, intanto, nel Michigan, suo fratello Kit morì di cancro alla gola all'età di 21 anni e suo nonno si suicidò. Aileen Wuornos rimase sola al mondo fino a quando incontrò una donna destinata a diventare la sua amante. Non ci si può innamorare veramente in questo mondo schifoso, perché l'amore può portarti a commettere dei crimini. Le è successo questo? Ha commesso crimini per amore? Sì, è così. Rischi di impelagarti in qualche attività illegale. Se sei troppo innamorato di qualcuno. La vita sulla strada come prostituta, per Aileen Wuornos, si faceva sempre più difficile. La sua clientela, racconta, era via via sempre più violenta. Sono forse nata davanti a un sacco da box per imparare a difendermi dalle aggressioni degli uomini. No, nessuno di noi nasce per questo. Noi donne siamo sensibili, dolci e affettuose. E anch'io lo sono, ma a forza di botte, a forza di violenze, sono diventata un'assassina e una lesbica. Ecco perché sempre più donne diventano lesbiche. È per colpa degli uomini, che le trattano come animali, capite? Era una sopravvissuta, era sopravvissuta malgrado quello che le era successo. Ed era sopravvissuta in un mondo nel quale ben pochi di noi avrebbero voluto vivere. Lottava per la sua vita, continuando a cercare qualcuno che si occupasse di lei, qualcuno che le desse un po' di affetto, di qualsiasi tipo. E l'aveva trovato in questa donna, Tyra Moore. Si erano incontrati in un bar per omosessuali e poco dopo avevano iniziato a vivere insieme in appartamenti, camper e stanze di motel. Trisha Jenkins difese Eileen Wuornos. Era l'unica relazione duratura che avesse trovato. La prima relazione intima e non occasionale della sua vita. Tyra era l'unica persona che avesse mai accettato di stabilire un rapporto umano con lei. Tyra Moore era una vagabonda che saltuariamente lavorava come addetta alle pulizie negli alberghi e divenne economicamente dipendente da Eileen. Minacciava di lasciarla se non fosse riuscita a garantirle il tenore di vita che desiderava. E, secondo Jenkins, Eileen, o Lee, come era conosciuta, era disposta a tutto pur di non perdere Tyra. Lee avrebbe fatto qualsiasi cosa per Tyra, qualsiasi cosa. E credo che Tyra Moore fosse meno innocente di quanto non si creda. Aveva le sue esigenze ed era molto importante per Lee mostrarsi forte e darle ciò che voleva. Così prese a lavorare più intensamente per soddisfare le esigenze della sua amante. Sapeva che per me era facile fare soldi e mi diceva «Oh, se è così facile, allora farne un po' anche per me». Era molto dura per me guadagnarmi quei soldi. Ma secondo lei era facile. Mi vedeva tornare a casa con 150 o 300 dollari al giorno, mentre lei ne guadagnava 300 ogni due settimane. Per lei ero una gallina dalle uova d'oro. Ma fare i soldi non era tanto facile come un tempo. Ormai aveva superato i 30 anni e il suo fascino iniziava a sfiorire. Era molto sovrappeso e sempre più trascurata. Non riusciva più ad attrarre lo stesso genere di clienti di un tempo. E credo che questo fosse molto... molto umiliante per lei. Le continue pressioni della sua amante, il bere e i 17 anni di prostituzione iniziavano a farsi sentire. Eileen Wuornos raccontò di essere stata picchiata spesso nel corso degli anni e stuprata almeno nove volte fino a quando incontrò Richard Mallory. E quella che era iniziata come una transazione era diventata una lotta per la sopravvivenza. Credo che fosse arrivata ad un punto tale da non poter più sostenere quella pressione e non ci vuole molto a scatenare la sua furia. Mi ci vollero 17 anni prima di uccidere qualcuno per trovare il coraggio di uccidere uno stupratore. Ormai il mio cuore si è rendurito e fui capace di dirmi quando è troppo, è troppo. E quale fu la molla, l'episodio che le fece dire quando è troppo, è troppo? Dopo 17 anni di quella vita dissi basta e comprei una pistola per difendermi dal prossimo tentativo di stupro. Non poteva fermarsi, non poteva più tornare indietro data la vita che conduceva. Si era trattenuta fin troppe volte prima di stabilirsi nell'area di Daytona. Nessuna delle sue vittime l'aveva violentata. Non so se fosse stata violentata in precedenza da altri, ma gli uomini che uccise li uccise a sangue freddo senza alcuna scusa se non che voleva farlo. All'inizio del processo contro Aileen Wuornos per il suo primo omicidio, il pubblico ministero John Tanner la descrisse come una prostituta predatrice. Le donne che si danno alla prostituzione a volte sono delle vittime, altre volte invece hanno il pieno controllo della situazione. e ritengo che Aileen Wuornos appartenesse a questa seconda categoria. Controllava gli uomini con il sesso fino a raggiungere il grado ultimo del controllo e cioè ucciderli. Tanner disse alla giuria che l'uccisione di Richard Mallory era stata premeditata, un crimine che in Florida è punibile con la pena di morte. Aveva escogitato un piano e lo portò avanti fino alle estreme conseguenze. Prese a Richard Mallory tutto ciò che aveva, compresa la sua vita. Era ovviamente un assassino a sangue freddo che sceglieva attentamente le sue vittime. Uomini, uomini virtualmente inermi. infatti non reagivano quando lei gli sparava. Li uccideva e li derubava e si sbarazzava dai corpi. Nella sua mente la stavano violentando e doveva difendersi a tutti i costi. Ma non la pensava così anche Tyra Moore. La donna che era stata per quattro anni e mezzo l'amante e la migliore amica di Aileen Wuornos finì per diventare la testimone chiave dell'accusa. Mi disse che quel giorno aveva ucciso un uomo. E lei le disse qualcosa? No, non volevo crederci. Ero sconvolta. Più tardi mi disse di aver nascosto il cadavere nei boschi coprendolo con un telo. L'unica cosa che riconosco ai poliziotti è che hanno fatto testimoniare Tyra perché era innocente. Tyra affermò anche che Aileen non raccontò mai di essere stata stuprata tantomeno di essere stata vittima di abusi sessuali. Guardandola notò qualche ferita sul suo corpo? No, non vidi alcuna ferita. E quella mattina quando andò al lavoro? O la sera stessa? No. Tyra Moore non solo sapeva che Aileen aveva ucciso Mallory. Le due donne avevano usato l'automobile della vittima dopo l'omicidio. Tyra continuò a vivere con Aileen per un altro anno durante il quale Aileen uccise altri sei uomini. E sebbene i suoi sospetti fossero sempre crescenti Tyra non andò mai dalla polizia per dire ciò che sapeva sulla morte di Mallory. Non credo che siamo riusciti a vedere la vera Tyra Moore. Era lei la violenta. Le nostre indagini hanno evidenziato come ogni volta che la coppia usciva e andava in un bar era sempre Tyra ad attaccare briga. Abbiamo trovato rapporti della polizia che si riferivano a diversi episodi nei quali Tyra aveva aggredito qualcuno. Era sempre lei a cominciare e lì ogni volta interveniva in sua difesa. Tra le due la violenta era Tyra. Dopo la telefonata con la quale Tyra Moore era riuscita a convincere con l'inganno la sua amante a confessare, Aileen Wuornos rese alla polizia una confessione di tre ore e venti minuti nel corso della quale ammise di aver ucciso sette uomini. L'accusa presentò in tribunale una versione montata della confessione ma riguardava soltanto l'uccisione di Richard Mallory l'unico omicidio per il quale Aileen era in quel momento sotto processo. Nella registrazione Aileen raccontò alla polizia di essersi infuriata perché Mallory si era rifiutato di togliersi le mutande prima del rapporto carnale. avevano litigato e lui l'aveva aggredita. Ecco dalla sua viva voce il racconto di ciò che era accaduto in seguito. Saltai fuori dalla macchina con la mia borsa estrassi la pistola e gli dissi scendi. Lui disse che succede? Gli dissi hai tentato di violentarmi? E lui no, no, non è vero e io sì invece stavi per violentarmi amico e gli dissi di allontanarsi immediatamente dall'automobile. Ma successivamente fornì una versione dei fatti diversa dalla prima. Iniziamo a lottare ci fu una colluttazione balzai fuori dalla macchina lui prese la mia borsa provocando uno sparo quindi riuscì a riprendermi la borsa togliendogliela dalle mani e presi la pistola un istante dopo gli sparai. A quel punto avrebbe potuto andarsene in automobili o fuggire a piedi senza ucciderlo invece da come lei stessa ha descritto scese dall'auto dalla parte del passeggero andò davanti alla macchina dove era il signor Mallory e gli sparò di nuovo lui cadde a terra lei si avvicinò e gli sparò altre due volte. Trisha Jenkins l'avvocato difensore di Aileen Wuornos sostenne che Aileen era vittima del proprio passato vittima della sua professione e soprattutto vittima di Richard Mallory per dimostrarlo chiamò Aileen Wuornos alla sbarra per raccontare alla giuria ciò che era successo nell'auto di Mallory prima dell'omicidio. Gli chiesi quanti soldi hai e lui ho qualcosa per la colazione e per la benzina e io gli dissi Richard non se ne parla proprio io e te abbiamo fatto un accordo non te lo ricordi e a questo punto temo proprio che dovremmo annullarlo stava fingendo di non avere soldi per pagarmi mi voltai per recuperare i miei vestiti che avevo appoggiato su alcune scatole sul sedile posteriore non mi ricordo se fossero scatole ma ricordo che li avevo appoggiati su qualcosa iniziai a recuperarli e vedi che lui si avvicinava veniva verso di me così mi voltai ma prima che avessi il tempo di rendermi conto di ciò che stava succedendo lui mi strinse un laccio intorno al collo mi disse farai tutto quello che ti dico di fare altrimenti ti ammazzo e poi ti scoperò come ho già fatto con le altre troie che mi sono fatto e aggiunse non me ne frega niente il tuo corpo sarà ancora caldo per il mio grosso grosso passò dal sedile di guida a quello del passeggero e aprì la portiera iniziò a spogliarsi gettando i suoi indumenti per terra è molto imbarazzante questo per me mi prese le gambe e le sollevò fino a che i piedi furono all'altezza del finestrino e cosa successe dopo? a quel punto iniziò a fare sesso anale e lo faceva in un modo molto violento muovendosi e poi non so se venne non saprei se scusate il linguaggio che sto usando non so se iaculò insomma ma si ritirò velocemente e mi penetrò con violenza nella vagina allora pensai questo tizio adesso mi ammazza non esco viva poi prese una bottiglia e la riempì di di qualcosa che mi sembrò dell'alcol almeno così credo e introdusse la la bottiglia con forza nel mio oretto fu molto doloroso perché poco prima mi aveva procurato delle ferite poi mi mise la bottiglia nella vagina un dolore terribile a quel punto fece il giro e tornò al posto di guida e mi prese per il naso così mi aprì le narici e e mi versò dell'alcol nel naso ecco disse gli occhi li tengo per il gran finale e rimise la bottiglia sul cruscotto ero ero veramente furiosa allora la presi e la lanciai via e lui con il braccio sinistro mi strozzò e io presi cercai di fermarlo e io con la mia mano così lo tenevo lontano più che potevo mi diede uno schiaffo fortissimo in faccia e poi iniziò a strangolarmi ma io gli presi il braccio sinistro il braccio destro sì il braccio destro e glielo sollevai poi con i piedi gli diedi una spinta indietro e lo respinsi e lui sembrò smettere poi si mise in ginocchio e disse mi divertirò un mondo con te e mentre lo diceva io balzai su e gli sputai in faccia mi disse sei morta puttana sei morta mentre si puliva gli occhi io mi abbassai velocemente e presi la borsa lui mi stava saltando addosso quando presi la borsa e mi voltai gli puntai la pistola verso di lui così gliela puntai contro protese verso di me il braccio destro e gli sparai immediatamente gli sparai due volte più in fretta che potei e cosa fece? lui tentò di aggredirmi di nuovo io sparai e lui si fermò riuscì a respingerlo lontano da me si rimise a sedere al posto di guida io aprì subito la portiera uscì e raggiunsi subito il posto di guida aprì la portiera lo guardai e lui tentò di scendere gli dissi resta dove sei non ti avvicinare ti sparo se ti avvicini ti sparo di nuovo non farmelo fare o qualcosa del genere ma lui continuò ad avvicinarsi e io sparai non mirai neanche sparai e basta un perfetto esempio di autodifesa se non fosse per un particolare nel corso della confessione registrata Aileen Wuornos non aveva mai detto alla polizia che Mallory l'avesse torturata e violentata ma ecco come la difesa spiegò l'uccisione di Richard Mallory secondo la mia opinione penso che lì si sentì in una situazione di pericolo e agì dal suo punto di vista per legittima difesa la dottoressa Elizabeth McMahon è una psicologa e testimoniò per la difesa Aileen agì come avrebbe agito un bambino di due o tre anni nella sua stessa situazione la ragione di ciò secondo McMahon va ricercata nel fatto che le esigenze emotive di Aileen Wuornos non furono mai soddisfatte da chi amava non da sua madre che l'aveva abbandonata non dal nonno che l'aveva cacciata di casa e nemmeno da Tyra Moore che aveva collaborato con la polizia l'abbandono più doloroso fu il giro telefonico grazie al quale Tyra la indusse a confessare e Aileen confessò perché voleva salvare Tyra dal processo per tutta la vita Lee è stata abbandonata dalle persone dalle quali si aspettava amore in un modo o nell'altro l'hanno tradita tutti e quando tutti ci abbandonano la nostra reazione è terribile ora vedremo il verdetto e vedremo Aileen Wuornos indicare i colpevoli della morte delle sue sette vittime la giuria impiegò appena 91 minuti a decidere il fatto di Aileen Wuornos noi la giuria riteniamo l'imputata Aileen Carol Wuornos colpevole del reato di omicidio premeditato e dell'omicidio di primo grado di Richard Mallory io sono stata io sono stata violentata spero che succeda anche a voi sacchi di merda quando urlò contro di noi pensai ecco la Aileen che non avevamo visto in aula probabilmente la stessa Aileen Wuornos che aveva ucciso in preda alla furia Aileen cosa ne pensi del verdetto? Hai qualcosa da dire? Sono innocente sono stata violentata torturata c'era una foto del volante dell'automobile e il volante era pieno di abrasioni era in pezzi quella foto provava che ero stata legata al volante e torturata è incredibile quello che è successo la portavoce della giuria Pamela Mills una donna aggredita che è stata violentata che ha preso un'arma e sparato al suo aggressore scappa più veloce che può si allontana ma lei gli sparò altre tre volte nascose il corpo gli rubò l'auto lo spogliò di tutti i suoi averi e il giorno dopo si trasferì e nascose la macchina non mi sembrano le azioni di qualcuno che teme per la propria vita secondo me erano premeditate la giuria invocò la pena di morte a quell'epoca non esisteva l'ergastolo senza condizionale se fosse stata condannata l'ergastolo sarebbe probabilmente uscita dopo 25 anni e io non volevo che tornasse in libertà perché non pensavo che il carcere potesse cambiarla se fosse uscita 25 anni dopo avrebbe ricominciato a fare le stesse cose che faceva prima non conosceva altri modi per guadagnarsi da vivere era l'unica vita che conosceva chiedemmo la pena di morte perché non volevamo che tornasse in libertà prima della sentenza Aileen Wuornos rilasciò una dichiarazione prima di tutto vorrei dire che sono stata definita una serial killer e io non sono una serial killer mi è stata affibbiata questa etichetta perché la mia storia coinvolge molti uomini ma io ero semplicemente una prostituta e prostituendomi ho avuto a che fare con molti uomini tra i 200 e i 250 al mese ho avuto a che fare con tutti questi uomini a causa del mio lavoro di prostituta una volta mi è stato chiesto se il fatto che l'imputata fosse una prostituta avesse influito sul mio giudizio e dunque sul mio voto ho risposto no perché anche una prostituta può essere violentata ciò che la giuria non sapeva era che nel 1958 Richard Mallory era stato condannato per un tentativo di stupro e che per quel reato aveva scontato nove anni di prigione nel Maryland il fatto che la vittima prima di essere assassinata avesse in passato commesso un crimine e fosse stata punita per quel crimine non aveva niente a che vedere con il processo in esame questo dettaglio della vita di Mallory non fu mai presentato in tribunale perché la difesa lo apprese solo alla vigilia del processo quando la difesa chiese tempo per poter approfondire la questione il giudice lo negò questo avrebbe potuto influenzare la giuria non credo che un episodio di 27 anni prima avesse qualcosa a che fare con il processo in atto questa corte ha deciso che lei e Eileen Carol Warners sia sottoposta alla sedia elettrica fino a che morte non sopraggiunga aveva commesso l'errore di uccidere uomini di mezza età e di razza bianca in una comunità estremamente conservatrice e quindi insensibile alle sofferenze che aveva dovuto attraversare nella sua vita di prostituta per molte persone era stata una sua scelta e se l'era meritata due mesi dopo nella contea di Marion in Florida Eileen Warners cambiò avvocati e rinunciò a dimostrare la propria innocenza per gli omicidi di Troy Burress Charles Humphries e David Spears come si sente ora? felice perché presto sarò con il signore ne sono certa perché ho detto la verità all'avvicinarsi della sentenza Eileen Warners tornò a ripetere che aveva ucciso per salvarsi la vita a quanto pare a voi non importa se una prostituta muore questo è un fatto ritiene che meritasse di morire? no fu un omicidio giustificabile le furono comminate tre ulteriori pene di morte e subito dopo ecco che cosa dichiarò al pubblico ministero sarà iniziato a partire da che tua moglie e i tuoi figli siano violentati la condanno a morte per l'omicidio e al giudice dopo la sentenza siete dei figli di puttana ma quante volte volete uccidermi? sono solo stronzate Eileen Warners si dichiarò colpevole degli omicidi di Walter Antonio e Charles Cascaden a quel punto aveva già totalizzato sei condanne a morte oggi vive nel penitenziario di Broward alle porte di Fort Lauderdale nel braccio della morte il suo avvocato ha fatto ricorsi in appello e se dovesse perdere Eileen sarebbe giustiziata con un'iniezione letale il che per lei andrebbe anche bene preferirebbe morire piuttosto che trascorrere tutta la vita in carcere o in qualsiasi altro luogo nel quale rischiasse di essere violentata non voglio lungaggine nella mia esecuzione voglio solo raggiungere Dio e io non se avessi fatto quello che dicono io non potrei e non vorrei vuoi veramente morire? sarebbe meglio sì se fossi condannata all'ergastolo sarei stuprata di nuovo e tornerei a uccidere probabilmente sono talmente ossessionata dall'idea di essere violentata che potrei uccidere di nuovo l'ergastolo non servirebbe è meglio morire che accade con Richard Mallory? le tornarono in mente esperienze precedenti? no niente del genere le cose che ho fatto non le rivivo nemmeno in sogno non non mi capita mai di sognare quegli episodi nessun flashback niente di niente non ho amici immaginari e non sento le voci se è questo che volete sapere non di meno Aileen Wuornos prova rimorso mi dispiace di averli uccisi di aver ucciso quegli uomini tutti ma sono anche arrabbiata perché loro mi hanno costretto ad uccidere loro secondo Aileen sarebbe la polizia sostiene infatti di essere vittima di una cospirazione secondo lei la polizia sapeva tutto e avrebbe potuto fermarla in tempo ma non aveva voluto farlo sta dicendo che se l'avessero arrestata prima non ci sarebbero stati omicidi certo e ora non sarei nel braccio della morte forse sarei stata assolta per l'omicidio di Richard Mallory il dipartimento dello sceriffo della contà di Marion una delle cinque agenzie governative che indagarono sugli omicidi definì ridicole le accuse di Aileen Wuornos hanno lasciato che continuassi a uccidere per fare di me una serial killer e poter scrivere libri e girare film gli avvocati di Aileen Wuornos denunciarono che tre investigatori della contà di Marion avevano stipulato accordi per trasformare il caso in un libro e in un film accordi che furono annullati quando la cosa divenne di pubblico dominio inoltre in seguito si venne a sapere che dopo un'inchiesta interna sulla condotta degli ufficiali di polizia tutti e tre gli investigatori furono assegnati ad altri casi un portavoce del dipartimento dello sceriffo negò che vi fosse stata un'indagine interna sulla condotta dei tre agenti disse che solo un agente fu assegnata a un altro caso e ciò dietro sua esplicita richiesta e che cosa risponde a chi dice sai parliamoci chiaro hai ucciso sette uomini e tutto il resto non conta sei responsabile che cosa risponde a questa gente non ho una vera risposta perché non ho alcun interesse a salvarmi la vita per niente giustiziatemi andrò a incontrare Gesù Cristo ricordate Dio ha detto mia è la vendetta e io lascerò che sia lui a occuparsi della faccenda perché io sono stufa addio grazie a tutti 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 grazie a tutti